Bentornati su MyFootballGersey. Oggi facciamo la comparazione della quarta maglia del Paris Saint Germain per la stagione 22-23 in edizione player che è quella che indosso e in edizione fan. Mi raccomando guardate il video fino alla fine perché vedrete la diversa vestibilità di queste due maglie. Ci vediamo dopo! Come al solito una delle differenze principali sta nel fatto che il logo del Paris Saint Germain e quello di Jordan sono nella versione player termosaldati mentre nella versione fan sono ricamati. Un'altra grande differenza come al solito sta nel tessuto della maglia. La versione player è molto più traspirante, ha un tessuto molto più lavorato e più lucido che io preferisco. Infine vi ricordo che la versione player come sempre ha una vestibilità ridotta perché è pensata per i calciatori. Allora cosa ne pensate? Secondo me questa maglia è molto bella e ci sono piccole differenze soprattutto nel tessuto tra le due versioni. Questa che vedete è una versione, è la versione player, quella indossata dai calciatori quindi un po' più tecnica e spiancata. Di questa vi ricordo sempre di prendere una taglia più alta se come me avete un pochino di pancetta. Questa invece che vedete è la versione fan, quella un po' più comoda pensate per i tifosi. Di questa potete tranquillamente ordinare la vostra taglia normale, ad esempio questa è una media. Spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate potuto apprezzare le differenze tra le due maglie. Ora prima di lasciarvi io spero possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Questo è l'unico modo che avete per farci crescere e di avere sempre nuovi video e nuove recensioni per il futuro. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima